Sassari è già una città che ha dato Natale a diversi registi in campo nazionale, è una città che ha per esempio nel campo del teatro grande professionalità, grande storia e allora vogliamo cominciare a ragionare sulla possibilità di produrre anche dei film, assieme naturalmente alla Film Commission, alla Fondazione Banco di Sardegna, assieme all'Accademia delle Belle Artiche a una sezione specifica. Quindi stanno nascendo professionalità, ce ne sono già presenti, altre ne stanno nascendo, il lavoro delle associazioni che si occupano di cinema non solo per guardarlo, stanno lavorando molto bene anche per cominciare a lavorare per farlo e quindi riteniamo assieme ad altre iniziative che di tanto in tanto in questi ultimi due anni stanno venendo sempre più spesso, sete cinematografici all'Asinara, in città, ad Alghero e così via, riteniamo che sia il luogo ideale per le caratteristiche ambientali per una parte e poi per le professionalità dall'altra, sia il luogo ideale dove davvero può nascere una industria cinematografica.